Ciao amici di AdixTest2Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele e oggi siamo qui in compagnia del mio drone, l'Absan H501S Finalmente ci sono delle belle giornate, possiamo farlo finalmente volare! Allora ragazzi, questo video è un po' particolare, infatti vi faccio vedere una ripresa aerea, spero vi piaccia Se il drone comunque vi interessa e volete comprarlo, mi segnalo che è in offerta a 200€ tramite i link che trovate qui sotto in descrizione, nelle colorazioni bianco e nero La versione base differenzia dalla mia, che è la versione avanzata, solo per il radiocomando che ha le stesse funzioni, ha un display leggermente più grande nella versione base ma ha un range di utilizzo leggermente ridotto rispetto alla mia è comunque un'ottima versione, ve la consiglio, dateci pure un'occhiata Se lo comprate, utilizzate la spedizione Priority Line Italia Express che vi evita la dogana in quanto viene già pagata da Gearbest Inoltre, sempre qui sotto, vi linko altri droni interessanti dateci un'occhiata e che altro dire, se avete delle domande sui droni che ho linkato se volete chiedermi qualcosa, io sono a vostra disposizione qui sotto nei commenti Inoltre ho creato anche un gruppo ufficiale Facebook dedicato ai droni In questo gruppo ci sono anche io ovviamente, trovate il link in descrizione Mentre nella scheda qui, da queste parti in alto a destra, trovate il mio sito Techvest Deals dove potete trovare appunto tantissime offerte riguardanti i droni e non solo, la tecnologia in generale Bene, spero che il video vi piaccia Mi raccomando, un bel like, commentatelo e condividetelo godetevi la ripresa aerea Ciao belli! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!